Ciao carissimi e carissime benvenuti su Gold Unicorn Art Tarot. Allora oggi facciamo il nostro consueto video breve per la domanda una persona ti sta pensando moltissimo o tantissimo e perché? Ho già fatto due video lunghi di questo che vi lascio il link dei video lunghi due video lunghi sotto in descrizione più approfonditi e questo facciamo un video breve proprio per andare a vedere in modo concentrato chi è che ti sta pensando moltissimo in questo momento beh ti sta proprio pensando una persona non solo è uscita la persona mi è uscito anche proprio il pensiero che ha una persona che ti vuole scrivere quindi sta pensando di scriverti di chiamarti beh direi che è un po' tesa vediamo un po' perché è tesa questa persona la vedo un po' in tensione o c'è stata una tensione fra di voi o ha delle tensioni sue quindi vediamo un po' perché è un po' irrigidito su qualcosa tant'è vero che secondo me vuole un chiarimento e infatti ti vuole dire proprio che vuole venire con questo bellissimo mondo che vuole proprio venire da te perché c'è qualcosa che non lo fa star bene quindi secondo me ecco qui è successo qualcosa che ha interrotto diciamo forse anche le comunicazioni fra di voi che però vuole riprendere ecco quindi vediamo proprio quindi già ci stanno già dicendo perché ti vuole chiamare allora andiamo un po' a vedere i suoi sentimenti quali sono i suoi sentimenti in questo momento visto che sente la voglia comunque di chiarire di venire verso di te e sì sì è proprio immediato qui col mondo e col carro qui abbiamo una persona che sta per fare proprio un'azione immediata e beh perché con questo bellissimo re di coppe si vede che ti vuole abbracciare, sentire ecco vuole sentire diciamo il tuo abbraccio vicino a lui o a lei quindi ti vede come una persona molto in gamba una persona che ha una grande capacità di discernimento di lavoro di saper fare tante cose ti stima questa persona quindi secondo me sente proprio anche la tua mancanza voglio metterci adesso questi tarocchi per approfondire ecco questa persona che ti sta pensando tantissimo quindi è dispiaciuto di qualcosa ma come anche ti sta pensando in che modo oltre ad avere del sentimento oltre ad avere quasi un'impellenza quasi un'impellenza di venire da te beh perché vuole portare equilibrio evidentemente c'è stato uno squilibrio o c'è stato un magari un'assenza di qualcuno dei due o un'assenza di comprensione due persone che si parlano che si chiariscono quindi ha voglia di abbracciarti come possiamo vedere benissimo da questa immagine ma ha voglia proprio anche di portare equilibrio portare equilibrio a tutta una serie di situazioni tra di voi quindi vuole senz'altro vuole anche proprio chiederti scusa perché non vuole più che ci possono essere i problemi che ci sono stati insomma viene davvero sinceramente verso di te quindi viene per dirti proprio che ha capito che sei il suo pensiero che sei la persona a cui tiene davvero tanto viene per offrirti la coppa veramente dei suoi sentimenti quindi si vede che che ci sta proprio soffrendo in questo momento sta proprio soffrendo per qualcosa queste sono le sue intenzioni senz'altro qui viene comunque una persona piuttosto orgogliosa che non mostra facilmente i suoi sentimenti invece secondo me questa volta sarà più limpido più chiaro sarà più limpido più chiaro nell'esprimerti veramente quello che ha capito che sente e ti vuole proprio dire che è come se ti volessi dire non facciamo più quello che ci siamo fatti tra di noi c'è un sentimento al di là di quello che è successo quindi non facciamo più questi errori quindi in sostanza ti vuole proprio chiedere vuole proprio scusarsi di qualcosa ma nello stesso tempo vuole anche dirti che forse tutte e due non siete stati capaci di dirvi davvero le cose dal punto di vista del cuore forse avete sottovalutato l'idea di parlare davvero col cuore in mano uno verso l'altro mentre invece questa volta succederà davvero quindi io vi ricordo che per questi due video di cui vi ho parlato approfonditi che ne ho fatti due molto lunghi approfonditi potete guardare il link che vi metto sotto in descrizione ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti